A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti. Dalla redazione di Tresas Magazine Italia vi parla Maurizio Monti. Una serata dedicata insieme con tutto il nostro pubblico alla cultura finanziaria, con un grande ospite, con un ospite che il nostro pubblico ha imparato a stimare moltissimo, ormai molto presente in tutti i nostri contenuti e anzi colgo l'occasione per ringraziare Alberto Camuncoli che in questo momento è collegato già con noi per il suo intervento al Traders Tour di Bologna di sabato scorso, del 13 ottobre, dove il pubblico ha dimostrato come al solito grande interesse per i suoi contenuti. Quindi grazie Alberto e grazie ancora di essere nostro ospite. Grazie a te e grazie a te Maurizio per l'ospitalità, ci mancherebbe. Io ti ho suavemente incastrato questa sera perché l'ho raccontato anche al nostro pubblico nelle email di invito che ho mandato, che abbiamo mandato, ho raccontato il dolce incastro che ti ho costretto addosso nel partecipare questa sera, quando tu il 10 di ottobre con un mercato in fibrillazione, Wall Street che cadeva come non lo vedevamo cadere ormai da parecchio tempo, da molto tempo, con l'S&P 500 che come sai è un po' il mio indice di riferimento anche sui servizi che offro io al mio pubblico. Nella giornata in cui l'S&P 500 perdeva 100 punti tu bello bello raccontavi che il tuo portafoglio si era incrementato di quella frazionale percentuale che però gradualmente ti fa accumulare come è tipico di chi ha un metodo ferreo, di chi ha costanza, disciplina come ce l'hai tu, ti fa accumulare una equity line di grande effetto, di grande rispetto. Prima di passarti la parola Alberto e prima di dare luogo all'intervento che il pubblico sta aspettando da parte tua, vi ricordo che come di consueto a questo webinar sono collegate delle offerte speciali che vi permettono di avere la consueta formula 6x12 più 100 cioè l'abbonamento annuale a portafoglio opzioni pagando soltanto l'abbonamento a 6 mesi più 100 euro, significa a 597 euro prendere l'abbonamento di un anno intero a portafoglio opzioni oppure di abbinare portafoglio opzioni con Profitsource in un abbonamento semestrale per entrambi e pagarlo solo 697 euro invece che 994. Vi ricordo anche che alla fine di questa settimana ci sarà il portafoglio opzioni Live, il metodo Teta Trade Invest di Alberto Camuncoli in diretta a mercati aperti a Reggio Emilia, una giornata formativa imperdibile ed indimenticabile direttamente con Alberto per imparare dal vivo il suo metodo. Credo che siano rimasti solo pochi posti, quindi ormai le iscrizioni andranno a chiudersi ed è la ragione per cui vi chiedo di affrettarvi ad iscrivervi a questa imperdibile giornata di formazione. Vi consiglio che siate già clienti di Traders Magazine con altri prodotti, altri servizi, che siate abbonati alla rivista o semplicemente registrati al sito o nostri sostenitori, chiamate oppure mandate un sms o un whatsapp, scrivete sull' sms o sul whatsapp il vostro nome più un ok al numero 320-8756444 sarà il segnale per il nostro Customer Care per poter attivare la promozione personalizzata su tutto quello che viene offerto oggi in abbinamento con questo webinar. Significa che se siete già clienti di altri nostri servizi, se siete abbonati alla rivista, se volete acquisire più servizi in bundles, più servizi insieme, il nostro Customer Care è in grado di farvi delle promozioni assolutamente personalizzate sulla base di quella che è la vostra condizione cliente. Scrivete il vostro nome più un ok a questo numero perché ottenete sicuramente degli sconti imperdibili e delle possibilità assolutamente uniche e personalizzate per ciascuno di voi per ottenere i nostri servizi. Quello che andiamo a vedere questa sera è una disamina del metodo Theta3 di Investor con alcuni esempi concreti di operazioni fatte. Il mio consiglio è questo, se siete già operati con le opzioni, siete già investitori di opzioni, il portafoglio opzioni è un metodo fantastico che è descritto analiticamente nel libro di Alberto Camuncoli che trovate facilmente sullo shop di traders. Basta cliccare in fondo nell'immagine investire con successo dopo aver cliccato lo shop di traders. Investire con successo è una simpatica bibbia per gli investitori in opzioni che descrive analiticamente il metodo che poi realizzato sul servizio portafoglio opzioni che realizza giorno dopo giorno il metodo Theta3 di Investor di Alberto Camuncoli che oggi avete la possibilità di acquisire a condizioni di grande favore. Quindi se siete già operatori in opzioni non dimenticate, non esitate ad approcciare questo metodo. Se non avete mai operato in opzioni, questa è l'occasione fondamentale, unica per approcciare in modo determinato il numero di opzioni perché insieme con il servizio acquisirete tutta una serie di classi formativi. Avrete accesso quindi ad una intera piattaforma formativa che vi permettono di poter approcciare le opzioni nel modo migliore per voi. Ricordate sia che siate esperti oppure no o neofiti su opzioni, portafoglio opzioni è un'occasione imperdibile per entrare nel mondo delle opzioni da vincenti, da persone che vincono e dominano i mercati come Alberto Camuncoli che è il nostro relatore di questa sera a cui con il suo permesso passo la parola e il controllo del video dello schermo affinché possa iniziare il suo intervento. Se sei pronto Alberto, prendi pure il controllo. Sì, perfetto, eccomi qui, grazie Maurizio dell'introduzione, buonasera a tutti. Allora, vediamo di mettere le slide tutto schermo, così mi dite se vedete, se sentite, se è tutto a posto. Direi di sì. Allora, prendiamo qui il pannello. Ok, perfetto, allora benvenuti a questo nuovo webinar Wall Street, il crollo è un sintomo o un incidente? Quindi la domanda sottesa a questo titolo è ma cosa farà il mercato nei prossimi mesi? Beh, tanto per iniziare vi confesso che non lo so, ma per fortuna non c'è bisogno di saperlo per operare in maniera profittevole. Allora, prima di tutto una brevissima presentazione per chi non mi conosce. Ho più di vent'anni di esperienze sui mercati finanziari, internazionali. Le mie esperienze sono state all'inizio come investitore passivo e gestito, poi sono diventato un trader indipendente e direzionale, quindi ero totalmente direzionale sui mercati ed infine invece già da molti anni a questa parte sono diventato un investitore TETA3 Invest. Sono, come mia esperienza, sono sopravvissuto alla crisi asiatica del 98, crollo del Nasdaq nel 2000 e chi c'era sa di cosa stiamo parlando, tragici attentati chiaramente nel 2001, crisi mondiale nel 2008, il flash crash nel 2010, poi cos'altro abbiamo avuto Brexit tra le elezioni di Trump, sin arrivare ai forti movimenti in alcune materie prime, tra le quali loro, degli ultimi mesi. E per ultimo, insomma, la giornata di mercoledì, che è stata una giornata appunto piena di volatilità e del tutto, diciamo, imprevista dalla maggior parte degli operatori. Quindi, diciamo che un po' di rumba sui mercati l'ho ballata, l'ho vissuta e in tutto questo tempo, in tutti questi anni, sono passato dal dover fissare grafici per buona parte delle mie giornate e sopportare per questo, anche per questo, elevati livelli di stress e alla fine poi per guadagnare comunque in maniera non proporzionale rispetto ai miei sforzi, al tempo che dedicavo ai mercati, invece al dedicare a seguire i mercati finanziari massimo un'ora, un'ora e mezza al giorno, avere uno stress minimo e guadagnare decisamente di più. Quindi, con questo webinar desidero illustrarvi come ho compiuto questo percorso e attraverso quale è la metodologia che mi ha permesso appunto di ottenere questi risultati. Ma prima di questo, facciamo una parentesi cinematografica. Non so chi di voi si ricorda questo film, è il primo della serie Indiana Jones, quindi siamo nell'81, il primo della serie, quindi i predatori dell'arca perduta, il titolo originario, a un certo punto in questo film si vede questa scena. inizia un combattimento tra Indiana Jones e questo personaggio super agguerrito che sembra veramente appunto molto cattivo, armato di spada, che inizia a cimentarsi in alcune pirouette con la sua spada per intimorire Indiana Jones. Indiana Jones lo guarda un attimo, vede appunto queste pirouette, vede com'è attrezzato il suo avversario, fa un mezzo sorriso e poi estrae la pistola e lo fredda nel giro di pochi secondi. Qualcuno di voi si ricorda questa scena, la vista, e c'è anche su YouTube, tra l'altro. Volevo far vedere la YouTube, ma poi ci sono stati problemi e quindi l'ho riassunta con questi due fotografi. Però non so se qualcuno di voi la vista e se la ricorda. Comunque è una scena alla fine divertente, proprio perché simboleggia dal mio punto di vista quello che tutti i giorni succede sui mercati finanziari. Tutti i giorni cosa succede? Che persone, tante, tante, tantissime persone, spesso armate solo di buona volontà e se va bene, quando va bene, qualche nozione a spicciola di trading, tentano di attaccare il mercato, tentano di realizzare profitti in un ambiente iper, iper competitivo. Non dimentichiamoci che in ballo ci sono veramente tantissimi soldi sui mercati finanziari e proprio per questo, chiaramente, è pieno di operatori altamente capitalizzati, dotati di mezzi all'avanguardia, anche tecnologici, dotati di molta molta esperienza e molte conoscenze. Alcune di queste conoscenze anche magari si tratta anche di informazioni privilegiate, cioè informazioni che non sono note agli altri operatori che vanno ad agire su questi mercati. e la fine, purtroppo, spesso e volentieri, è la stessa di questo personaggio armato di spada che viene fatto pur con tutta la buona volontà di questo mondo, ma non era attrezzato per quel tipo di combattimento, non aveva le armi giuste per poter affrontare e avere qualche speranza di vincere, poter battere questo tipo di avversario con le armi che arriva l'avversario. Se ci pensate, i mercati finanziari funzionano in maniera molto semplice. Ogni giorno trasferiscono denaro dai dilettanti allo sbaraglio, che non per niente, lo sapete, vengono chiamati parco voi, a chi invece ha le competenze necessarie per guadagnare con regolarità e costanza. Qual è appunto uno dei problemi del non apprezzarsi, del non avere le armi giuste, necessarie per poter battere i mercati finanziari? Beh, innanzitutto è una questione di mance, cioè l'atteggiamento. Come molte persone si rapportano appunto a un'attività che invece è molto, molto seria, molto professionale, quale è quella appunto dell'investire o di fare trading in borsa. La maggior parte dei traders degli investitori, cosa fa? Scommette sui mercati finanziari, proprio come se fosse un casino. Sento che quella determinata azione, o mi hanno detto che quella determinata azione salirà, bene, perfetto, allora punto tutti i miei risparmi su quell'azione, tanto prima o poi salirà, tanti mercati saliranno, e chiaramente avrò un guadagno. Sono tanti gli errori che si possono commettere se si ha un mindset e un atteggiamento di questo tipo. Quindi ho elencati solamente qualcuno, anche perché di più non ci stavano nella slide. Quindi, come possiamo vedere, i principali errori sono di sottovalutare sistematicamente i rischi del mercato. Questo punto l'avevo già approfondito in un precedente webinar, è fondamentale. Dobbiamo sempre capire i reali rischi a cui andiamo incontro ogni volta che mettiamo a mercato un'operazione. Quindi immaginarci sempre lo scenario peggiore. Questi giocatori d'azzardo hanno un unico piano, quello di non avere piani. Sono in balia delle emozioni. Non accettano le piccole perdite, e proprio per questo le trasformano in grandi. Invece da chiunque, anche da persone non qualificate, non professionali, accettano consigli di investimento. Desiderano soddisfare il portafoglio, ma ancora di più il loro ego. Quindi vogliono sempre aver ragione rispetto al mercato. Invece di diversificare, concentrano. Quindi su pochi titoli, su pochi mercati, vanno ad investire la maggior parte delle loro risorse, della loro liquidità. Alla ricerca del grande colpo, del colpo della vita. Si sentono responsabili solo quando guadagnano, mentre invece le perdite sono dovute alla sfortuna. E dunci si infundo, non imparano mai dagli errori commessi. In realtà, se si vogliono ottenere profitti costanti e regolari dai mercati, mese dopo mese, c'è un unico modo. E per fortuna, aggiungo io, come ho detto prima, non è quello di saper prevedere il futuro. Qual è questo modo? Dobbiamo, con la nostra metodologia, qualunque essa sia, e io adesso chiaramente vi parlerò del mio metodo, ma qualunque metodo voi decidiate di adottare, dovete assolutamente assicurarvi di avere uno, minimo uno, ma meglio più di uno, di vantaggi competitivi rispetto agli altri operatori. Assolutamente, perché? Perché se non avete uno, o meglio, più di uno, di questi vantaggi competitivi, vuol dire che non state combattendo ad armi pari questa battaglia. Vuol dire che voi avete la vostra spada in mano, ma dall'altra parte hanno pistole, fucili, cannoni, carri armati, cacciabombardieri e a salire. Quindi, in queste condizioni sarà molto difficile portare a casa in maniera costante dei profitti. L'unico modo è livellare, livellare il terreno di gioco, ma anzi addirittura avere appunto dei vantaggi competitivi. Perché? Perché questo ci porta ad avere le probabilità della nostra parte. In maniera, diciamo, sintetica, possiamo affermare che, a seconda delle metodologie utilizzate, delle tecniche, ci sono comunque quattro diversi modi di operare sui mercati finanziari. Possiamo avere un modo iperdirezionale, un modo direzionale, un modo moderatamente non direzionale e un modo, una metodologia, non direzionale. Cosa significa lavorare sui mercati finanziari in maniera iperdirezionale? Beh, è la classica persona che utilizza, in questo caso, le opzioni, però le utilizza all'opposto rispetto al metodo TETA Trading Invest. Perché? Cosa significa utilizzare le opzioni in maniera iperdirezionale? Beh, facciamo l'ipotesi, un titolo è a 100 dollari, questa persona ha una visione rialzista su questo titolo, quindi cosa fa? Decide di acquistare opzioni call, strike 110, fronte mese, cioè che scadono alla prima scadenza utile magari dopo 20-30 giorni. Quindi questo significa essere iperdirezionale rispetto al mercato, cioè avere una visione totalmente univoca che per poter produrre un profitto richiede assolutamente l'avverarsi di tre previsioni su tre previsioni possibili. Cioè, per poter generare i profitti in questa maniera, quindi con l'iperdirezionalità, profitti che, attenzione, possono essere anche molto molto alti, questo bisogna ammetterlo. Però, cosa deve succedere? Che la persona deve innanzitutto indovinare la direzione del titolo, e già qui ci sono 50 probabilità su 100 di sbagliarle. Ma poi non basta, deve indovinare la tempistica. Cioè, il titolo si deve muovere, in questo caso deve andare a rialzo, ma lo deve fare anche entro 20 giorni, perché sennò le emozioni scadono. In più, deve indovinare anche la magnitudo, cioè la forza di questo movimento. Perché se il titolo, nell'esempio che abbiamo fatto prima, da 100, e questo operatore acquista col 110, il titolo si muove da 100 a 103, per esempio, nell'arco di 20 giorni, lui sì ha indovinato direzione e ha indovinato tempistica, ma non avendo indovinato la magnitudo del movimento, ha comunque perso il 100% del suo capitale, perché l'opzione call alla scadenza va a valore solo se il titolo almeno è a 110. Quindi, con questo tipo di operatività, dobbiamo essere in grado, sempre e comunque in ogni operazione, di indovinare tre variabili su tre. Direzione, forza del movimento e tempistica, entro la quale il movimento si compie. A fronte di questo, se sono così bravo, avrò delle ricompense molto elevate, perché questa call 110 con il titolo a 100, magari riesco a fare il 500% di profitto sul capitale investito, perché magari il suo valore cresce di 5 volte, o anche di più, in tutti i giorni. Quindi, questo è una cosa possibile. Ma, ricordiamoci che andare a rendere e creare un metodo, un sistema da questo tipo di approccio, è impossibile, perché è impossibile ogni volta, o la maggior parte delle volte, riuscire a indovinare tutte e tre queste variabili. E ricordiamoci che, se non si indovinano tutte e tre, si perde il 100% del capitale, cioè, basta un errore per perdere tutto il capitale. Quindi, concludendo questo tipo di operatività, è possibile generare altissime percentuali di profitto, di contro si hanno bassissime probabilità di riuscirci, ed è impossibile creare un metodo applicabile e replicabile, che deve essere un po' il nostro obiettivo, se vogliamo, appunto, crearci una rendita dai mercati finanziari, e non semplicemente scommettere e ogni tanto perdere, ogni tanto guadagnare, ma alla fine poi essere sempre più o meno lì. Il secondo modo è un approccio direzionale. L'approccio direzionale è quello chiaramente, decisamente più diffuso, e può essere svolto o dalle persone, e diciamo dagli investitori anche passivi o gestiti, che semplicemente comprano, comprano un asset, e sperano che quest'asset e questo bene, col tempo, aumenti di valore, oppure può essere interpretato ed eseguito sul mercato dai traders. Con il vantaggio che chiaramente i traders hanno la possibilità sia di andare long che invece di shortare, quindi di trarre vantaggio sia da movimenti rialzisti che da movimenti ribassisti. Con questa metodologia è chiaramente possibile generare alte percentuali di profitto, perché se io sono bravo, indovino il titolo giusto, indovino il trend, beh, posso veramente realizzare dei profitti molto molto alti. Di contro sono comunque sempre contro le probabilità, e quindi ho al massimo, in normali condizioni di mercato, un 40% di probabilità di realizzare dei profitti. Anche in questo caso non è impossibile creare un metodo applicabile e replicabile, ma è molto impegnativo. Quando io parlo di impegno, intendo soprattutto in termini di applicazione, studio e tempo da dedicare. Perché sappiamo bene che appunto, facendo un'attività di trading, come normalmente viene intesa, quindi su time frame ebrei, è possibile guadagnare, guadagnare anche bene, è possibile indovinare i trend, seguire i trend, e quindi trarre profitto da questi cambiamenti repentini di prezzi dei mercati, ma questo è comunque molto impegnativo. E vi parlo per esperienza diretta, perché io per tanti anni ho fatto questo. Molto impegnativo a livello proprio di tempo, da dedicare a seguire i grafici, ma a livello anche di stress e di impegno mentale. Perché quando hai diverse operazioni, tutte direzionali, sui mercati, magari in quel momento stai facendo altro, ma il pensiero, il pensiero spesso corre o alla piattaforma, o al telefonino, per vedere in tempo reale i dati, cosa sta facendo quel sottostante, sta arrivando allo stop, sta arrivando al take profit, e quindi comunque è un qualcosa che può dare molte soddisfazioni, bisogna ammetterlo, ma comunque richiede un notevole impegno da parte nostra, appunto per quanto riguarda sia il tempo che le risorse mentali, appunto per riuscire a rendere profittevole questa metodologia. Diciamo, andando, continuando nella nostra scala, e piano piano allontanandoci dalla pura direzionalità, troviamo la metodologia moderatamente direzionale. Per farvi un esempio, in questo caso, sempre con il titolo a 100, sempre una visione rialzista su questo titolo, se iperdirezionale significava acquistare call a 110 frontemese, e direzionale significava acquistare direttamente il titolo a 100, moderatamente direzionale significa vendere, in questo caso, con la visione rialzista, put, magari a 95 dollari, e a due mesi di scadenza. Ecco che, con questo cambio di atteggiamento, inizio a avere la maggior parte delle probabilità, dalla mia parte, perché a questo punto, diversi movimenti possibili del sottostante, possono comunque produrre un mio profitto. Proprio per questo, posso comunque generare percentuali di profitto molto buone, perché se vado a vendere a 95 col titolo a 100, comunque incasso un premio bello ciunto, perché sono comunque abbastanza vicino al titolo, e per questo che dico moderatamente direzionale, sono abbastanza vicino al titolo, quindi è chiaro che mi possono andare bene movimenti o rialzisti o laterali. un movimento ribassista, anche minimo, invece potrebbe portarmi una perdita, proprio perché ho pochi dollari di distanza rispetto al prezzo del sottostante. Ma proprio per questo, proprio perché non sono comunque totalmente direzionale, le mie probabilità, che prima erano al 40%, salgono, le mie probabilità di realizzare un profitto, salgono e arrivano al 60%. Creare un metodo applicabile, replicabile, in questo caso, non è molto impegnativo, come con la metodologia direzionale, ma è comunque impegnativo, perché vendo delle opzioni comunque vicine al titolo, quindi dei movimenti, anche piccoli, del 2-3% in direzione contraria rispetto allo strike venduto, mi possono comunque procurare delle perdite. Infine, abbiamo il quarto e ultimo atteggiamento, che è decisamente il meno esplorato, il meno sfruttato, il meno diffuso, ma è quello che mi sta dando, veramente da tanti tanti anni, le più grandi soddisfazioni in assoluto, e dal mio punto di vista non c'è nessun tipo di paragone rispetto a tutte le altre metodologie che avevo applicato in precedenza. Un atteggiamento non direzionale con il titolo a 100 e una visione rialzista vuol dire, tradotto in strike, e vuol dire vendere, per esempio, strike 90, addirittura strike 85, a tre mesi, coprendosi con altre put, magari strike 80, quindi realizzare un credit spread di tipo non ribassista, appunto vendendo, per esempio, a strike 80, scusate, vendendo a strike 85, comprando 80 o 75, incassare un premio e avere un time frame, per esempio, di tre mesi. Ecco che, agendo in questo modo, la probabilità di profitto arriva veramente a percentuali molto molto alte, perché arriviamo almeno all'80%, proprio perché siamo lontani dal prezzo del sottostante ed abbiamo altri vantaggi competitivi che poi vedremo a nostro favore. Se noi operiamo in maniera non direzionale, quindi abbiamo comunque la possibilità di generare delle buone percentuali di profitto sul capitale che mettiamo a margine. Abbiamo, come detto, alte probabilità di riuscirci ed è un tipo, un approccio che è sicuramente impegnativo all'inizio. Perché? Perché dobbiamo imparare le opzioni, dobbiamo imparare come si formano i prezzi delle opzioni, come funzionano, cosa significa la volatilità sui mercati, quali sono gli strike che dobbiamo scegliere, quali invece dobbiamo scartare, come per ogni operazione calibrare la nostra strategia in opzione a fine di massimizzare i possibili profitti e minimizzare comunque i possibili rischi, ma una volta che noi superiamo questo stacco iniziale, in realtà poi l'applicazione pratica del metodo può diventare segna automatica. Perché? Perché il più delle volte non bisogna fare altro, una volta trovata l'operazione, di mettere a mercato appunto questa strategia, inserire gli ordini stop loss e take profit e poi per tre mesi, due mesi, 50 giorni, quello che è, non fare più assolutamente niente se non seguire tranquillamente l'evolversi dei prezzi e vedere il più delle volte, non sempre ovviamente piano piano quell'asset che noi abbiamo venduto, piano piano spegnersi e diventare sempre più più piccolino, diventare sempre con meno valore e quel valore che se ne va dell'asset che noi abbiamo venduto chiaramente rappresenterà una perdita per chi quell'asset l'ha comprato, ma per noi che abbiamo iniziato l'operazione da venditori e non da acquirenti rappresenta chiaramente un profitto quindi questi sono i tre i sostituibili vantaggi competitivi del metodo che io utilizzo ormai da tanti anni che è appunto il metodo Tita3D non direzionalità alta probabilità di profitto e tempo sempre a favore se ci pensate sono tre vantaggi competitivi che sono collegati uno con l'altro perché non direzionalità come abbiamo visto significa che ogni operazione che io metto a mercato ha la possibilità di creare profitto anche se il titolo si muove in modo laterale o in maniera contraria rispetto a quello che avevo previsto ok quindi anche se il titolo si muove in maniera contraria rispetto alle mie previsioni ho la possibilità comunque di portare a casa il mio profitto da questo deriva il secondo vantaggio competitivo cioè che proprio perché la maggior parte dei movimenti sono a mio favore se imposto così le operazioni significa appunto che ho la possibilità di iniziare di decidere di iniziare un'operazione solo su almeno l'80% di probabilità di maturare i guadagni decido io quale partita giocare e decido io come giocarla se non ho queste condizioni io quella partita non la gioco faccio un semplice click e scelgo un'altra operazione infine proprio perché il metodo si basa sull'incasso di premi ottenuti vendendo asset deperibili questo significa che a qualità di condizioni ogni giorno che passa contribuisce a diminuire il valore dei contratti venduti fino ad arrivare il più delle volte chiaramente non sempre a zero il giorno di scadenza per ottenere questi tre vantaggi non c'è nessun altro modo nessun altro strumento finanziario che possiamo utilizzare se non le opzioni le opzioni sono l'unico strumento finanziario in grado fra i tantissimi presenti sui mercati in grado di darci questi vantaggi e sulle opzioni sappiamo bene che ci sono tanti pensieri tante interpretazioni su come utilizzarle ma anche tanti pregiudizi molto spesso appunto si tende a pensare ma le opzioni sono molto rischiose quelle opzioni sono per speculatori in realtà le opzioni sono nate la loro prima funzione sono nate per affini assicurativi cioè e ancora oggi moltissime opzioni vengono utilizzate acquistate da fondi di investimento che siccome hanno in pancia posizioni quasi sempre solo long vogliono chiaramente comprando delle put assicurare il loro asset nel caso appunto di crollo quindi questa è stata diciamo la funzione iniziale delle opzioni un'altra funzione molto utilizzata è quella di edgiare o compensare operazioni in essere anche in questo modo le opzioni vengono utilizzate appunto da fondi pensione da grandi operatori poi diciamo più tristemente famosi invece sono i fini altamente speculativi cioè delle persone che vogliono essere iperdirezionali come abbiamo visto prima e cercano di trarre profitto da movimenti forti e unidirezionali del mercato ogni tanto ci riescono spesso volentieri invece finiscono per perdere tutto quello investito nell'acquisto di quelle opzioni l'approccio tetra trading invest non è nessuno di queste tre diciamo metodologie è qualcosa di completamente diverso in quanto l'estrema versatilità delle opzioni permette di mettere a mercato anche operazioni decisamente prudenti e protette cosa ha fatto il metodo tetra trading invest ha preso una strategia che già era ottima in partenza cioè il credit spread e la modificata per renderlo per limare i lati negativi cioè un negativo rapporto tra profitto e massima perdita e così facendo il credit spread nel metodo tetra trading invest viene utilizzato solo andando a vendere contratti molto distanti dal prezzo del sottostante da qui un atteggiamento decisamente prudente e protetto ed in più applicando rigorosissimi criteri di protezione del capitale e questi sono i 5 livelli di protezione che il metodo appunto prevede che vanno dalla protezione della singola strategia che andiamo a mettere a mercato e poi vi faccio vedere un esempio reale tratto da portafogli opzioni alla protezione dei profitti protezione dell'esercizio soprattutto chiaramente nella giornata di scadenza che normalmente è il terzo venerdì del mese dobbiamo attivare questa protezione per evitare poi brutte sorprese a lunedì protezione del capitale e protezione di ripartizione a questo proposito faccio uno spaccato per farvi capire cosa significa veramente protezione di ripartizione il metodo cosa dice con tabelle con numeri quindi cosa dobbiamo verificare ogni volta che andiamo a mettere a mercato un investimento TETA 3 Invest dobbiamo calcolare l'asset allocation all'inizio cioè quanto capitale investire nel metodo non è che tutto il mio capitale deve essere investito il mio capitale liquido deve essere investito in questa metodologia poi dobbiamo calcolare ogni volta il position sideline cioè quanto capitale rischiare in ogni operazione quindi quanti contratti vendere in relazione al valore del mio conto e poi dobbiamo capire come suddividere il capitale tra i mercati le tipologie di strumenti finanziari i sottostanti e le strategie proprio perché io vado a lavorare in maniera non direzionale io ho la possibilità di andare a lavorare su tanti mercati diversi anche non correlati totalmente non correlati tra loro o correlati in maniera opposta e facendo così riesco a proteggere molto meglio il mio portafoglio complessivo rispetto a chi per esempio ha come unica strategia il buy il compra e tieni buy and hold perché chiaramente chi ha solamente delle posizioni long sul proprio portafoglio è chiaro che in giornate come quelle di mercoledì scorso insomma soffre e non poco per questo che mi sento di consigliare però almeno di provare a conoscere questo metodo anche a chi attualmente sta utilizzando altre metodologie perché allora io utilizzo il metodo 83 di investimento in maniera esclusiva cioè tutti i miei investimenti finanziari li faccio solamente con questa metodologia proprio perché non una volta che l'ho provata e non si torna più indietro nel senso che adesso un investimento di tipo direzionale non proprio non l'affronterebbe però per chi già diciamo opera sui mercati già sta ottenendo dei buoni risultati può comunque valutare almeno di conoscere questo metodo per andare ad affiancarlo eventualmente se lo riterrà chiaramente opportuno alle altre metodologie alle altre strategie che già sta utilizzando così da migliorare avere una migliore diversificazione del portafoglio sicuramente tenete presente che grazie a questa metodologia io posso lavorare su mercati appunto molto diversi come l'azionario gli etf gli indici le materie prime e il mercato obbligazionario le valute e il future e su ognuno di questi mercati io posso andare a lavorare in maniera non ribassista o non rialzista sempre in maniera comunque molto molto distante dal prezzo del mercato ecco perché andando a differenziare andando a creare un vero e proprio portafoglio di titoli ma approcciati tutti in maniera non direzionale e andando a usufruire appunto di operazioni non correlate tra loro io posso ottenere risultati di questo tipo questo è il mio statement riferito a proprio mercoledì 10 ottobre a fine giornata e vedete che appunto come anticipava Maurizio una giornata dove lo Stato ha perso più del 3,5% il Dow Jones ha avuto la peggiore giornata a febbraio e il Nasdaq quindi parliamo dei tre principali indici americani ha da inizio mese inizio ottobre ha perso più del 7% e aggiungo io in una giornata dove la volatilità è aumentata l'indice di x non vado errato del 40 45% e io vi ricordo che sono venditore di opzioni quindi comunque quando aumenta la volatilità per me è negativo perché vuol dire che quelle opzioni che ho venduto si gonfiano e quindi aumentano il loro valore beh a fronte comunque di questo di questo sistema di queste circostanze che sono avvenute tutte insieme nella giornata di mercoledì vedete che alla fine la mia giornata si è chiusa chiamiamola così vittoriosa anche se non è che c'è da fare i salti di gioia però comunque uno 0,45% di profitto sull'intero portafoglio significa che comunque anche in condizioni di stress il metodo funziona proprio perché questa protezione di ripartizione mi è permesso di non essere chiaramente sbilanciato molto sbilanciato long quando poi appunto se si è se si ha in portafoglio solo posizioni long e beh caspita più o più i mercati vengono giù cioè non è che continuano a salire all'infinito ecco perché appunto consiglio assolutamente un tipo di approccio molto più differenziato e molto più protetto cosa che si può ottenere decisamente più facilmente con la non direzionalità rispetto invece a tutte le altre posizioni direzionali a proposito di comunque protezioni rispetto alle 5 che ho elencato prima ce n'è anche un'altra sulla quale vorrei farvi riflettere prima di passare ad esempi concreti molto spesso mi viene chiesto ma perché preferisci operare sulla borsa USA invece che su quella italiana allora io desidero stasera rispondere a questa domanda che mi viene fatta molto molto di frequente con due slide questa è proprio l'ho ricavata due o tre giorni fa è la differenza di rendimento tra l'indice standard pur quindi standard l'S&P 500 l'indice principale americano nel decennio che va dal settembre 2008 al settembre 2018 l'indice vedete che ha fatto più 137,91% la borsa italiana nello stesso time frame settembre 2008 settembre 2018 non ha fatto peggio ha fatto molto peggio vedete che da una parte abbiamo più 137,91% dall'altra abbiamo un meno 40% in dieci anni quindi mi domando ma caspita sono tantissimo tantissimi investitori che guardano solo il giardinetto sotto casa cioè guardano solo piazza affari ma quando invece ci possono essere delle opportunità veramente clamorose al di là dell'oceano un altro dato che vorrei porre alla vostra attenzione attualmente con gli ultimi cali che ci sono stati la capitalizzazione dell'intera piazza affari cioè di tutti i titoli quotati a piazza affari arriva a 600 miliardi se noi prendiamo le due aziende più capitalizzate sul listino USA che sono Apple e Amazon arriviamo solamente con due titoli ad una capitalizzazione di 2000 miliardi cioè da una parte abbiamo solamente due titoli Apple e Amazon che capitalizzano da soli 2000 miliardi dall'altra parte dell'oceano qui a casa nostra abbiamo un'intera borsa di una comunque delle economie più industrializzate dell'Occidente che tutta insieme capitalizza 600 miliardi insomma sono dati che fanno riflettere l'ultima riflessione prima di passare agli esempi magari dare la parola Maurizio ho scoperto questo sito se volete dateci un'occhiata perché è abbastanza angosciante vedete l'indirizzo qui sotto nationaldebitclocks.org slash debclock slash italy vi fa vedere in diretta in tempo reale l'ammontare del nostro debito quindi io vi chiedo ma chi diciamo ha tutto in Italia tutti i propri possedimenti le azioni immobili magari e quant'altro tutto concentrato in Italia ma l'avete mai considerato il rischio paese? Siete veramente sicuri visto anche il clima politico abbastanza instabile che c'è di voler concentrare tutti i vostri averi tutte le vostre risorse qui in Italia caspita abbiamo comunque uno dei debiti più alti debiti pubblici più alti al mondo quindi per quello che anche per questo punto di vista anche considerando l'eventuale rischio paese magari guardare al di là dell'Oceano valutare di fare investimenti anche sui mercati statunitensi potrebbe essere magari un qualcosa che potrebbe dare dei vantaggi al vostro portafoglio in prima battuta e poi anche ai rendimenti che potete ottenere bene allora io avrei preparato anche qualche esempio se vuoi Maurizio ti cedo la linea un attimo così preparo la piattaforma perfetto prepara pure la piattaforma nel frattempo nel frattempo Alberto io illustro di nuovo le offerte speciali che sono legate a questo webinar sul sito di Traders Cup il braccio operativo di Traders Magazine Italia www.traders-cup.it alla voce degli abbonamenti trovate l'abbonamento a portafoglio opzioni portafoglio opzioni è il servizio dove viene realizzato ogni giorno il metodo Teta Trade Invest di Alberto Camuncoli per i partecipanti a questo webinar avete la possibilità di acquisire questo servizio in offerta speciale precisamente una 6x12 più 100 cioè pagate l'abbonamento a 6 mesi con l'aggiunta di soli 100 euro e prendete un anno intero di servizio questa offerta è valida solo fino al 22 ottobre cioè solo fino a lunedì prossimo seconda offerta speciale è la possibilità di poter abbinare in servizio di Alberto Camuncoli con quello di un altro grande professionista come Corrado Rondelli col suo collega Giorgio Pallini quindi il servizio Provisurzi Provisurzi in abbinamento con portafoglio opzioni viene offerto per 6 mesi a 697 euro anziché 994 euro anch'esso offerta fino valida fino al 22 di ottobre vi ricordo inoltre che Alberto Camuncoli sarà in diretta a mercati aperti in una giornata formativa portafoglio opzioni live in metodo Theta Trade Invest appunto di Alberto Camuncoli in diretta una giornata formativa una mattina e un pomeriggio insieme con Alberto con il pranzo che verrà offerto da Alberto Camuncoli una serie di bonus che verranno offerti a tutti i partecipanti al prezzo di 963,80 prezzo comprensivo d'IVA per stare insieme delle 9.30 alle 19 a Corte d'Arobia a Reggio Emilia il 19 ottobre cioè il giorno della scadenza delle opzioni e quindi di vedere l'operatività delle opzioni il giorno stesso della scadenza ora il grande consiglio che io vi do è quello di chiamare oppure mandare un sms o un whatsapp scrivendo il vostro nome più un ok a 320 8756 444 al numero che vedete in questo momento sul vostro video questo vi dà modo di accedere ad una promozione personalizzata dei nostri servizi significa che se siete già clienti otterrete delle scontistiche particolari se acquisite più servizi otterrete delle scontistiche delle promozioni ad personam se siete abbonati alle nostre riviste ovviamente sarete privilegiati che avrete una corsia assolutamente preferenziale se non avete mai acquistato da noi certamente avrete altrettanta corsia preferenziale per quello che riguarda il benvenuto nella grande platea degli users dei nostri servizi di trading o di investimento offerti da Traders Magazine Italia offerti dalla piattaforma Traders Cup i servizi stanno aumentando giorno per giorno la platea di chi ne fluisce aumenta giorno per giorno il mio dovere è ringraziare tutti coloro che sono stati presenti al Traders Tour di Bologna il sabato scorso una grande giornata dedicata alla formazione vi ricordo che il 10 novembre saremo a Torino con un'altra edizione del Traders Tour vi ricordo anche che sullo shop di Traders Magazine Italia basta cliccare dalla home page la casella shop quella che vedete in questo momento in rosso trovate il libro di Alberto Camuncoli investire con successo una vera e propria bibbia dell'investitore assolutamente irrinunciabile assolutamente irrinunciabile per tutti coloro che vogliono operare in opzioni sia che siano neofiti che siate neofiti o siate già esperti nel mondo delle opzioni è vero e proprio manuale irrinunciabile da tenere sempre sulla scrivania vi ricordo anche che parteciperemo a Consultic alla fine di questa settimana il 18 e il 19 ottobre nella prossima settimana il 24 e il 25 ottobre saremo al Trading Online Expo e vi ricordo che avremo due interventi uno tenuto direttamente da me nel giorno 24 nel giorno 25 sarò insieme proprio con Alberto Camuncoli a illustrarvi anche nelle sale della Trading Online Expo ovvero della più importante manifestazione per il trading online in Italia ospitata a Palazzo Mezzanotte da Borsa Italiana saremo io ed Alberto insieme a spiegare le opportunità dell'investimento in opzioni con i metodi giusti come quello che Alberto sta illustrando ha illustrato nel libro che trovate sullo shop e gestisce giorno per giorno insieme con tutti gli abbonati a portafoglio opzioni con il metodo Teta Trading di Alberto Camuncoli non rinunciate a queste offerte speciali perché hanno una durata limitata fino al 22 ottobre per acquisire portafoglio opzioni fino a dopo domani se ci saranno ancora posti disponibili perché il corso si terrà il 19 ottobre per partecipare alla formidabile giornata formativa a mercati aperti proprio nel giorno di scadenza dell'opzione perdonatemi se insisto ma inviate il vostro nome e un ok a 320 865 564 444 875 6444 per ottenere la vostra promozione personalizzata grazie del vostro ascolto ripassiamo di nuovo la parola ad Alberto Camuncoli se sei pronto Alberto ti cedo di nuovo il controllo del video eccomi allora abbiamo cambiato scenario adesso abbiamo un po' di grafici un po' di operazioni live allora per ho deciso questa volta facciamo un po' diverso dal solito per illustrare il funzionamento del metodo partiamo da una perdita non da un'operazione in profitto perché chiaramente non dimentichiamoci che quello che fa la differenza non è tanto la singola operazione che possa andare bene o che possa andare male ma è insieme cioè il criterio di come noi costruiamo il nostro portafoglio quali sono le operazioni che mettiamo a mercato e poi alla fine a fine mese facciamo i conti abbiamo chiaramente come ogni attività come ogni business abbiamo delle spese tra le spese abbiamo le operazioni che ci portano a perdita poi abbiamo dei ricavi tra i ricavi chiaramente ci sono le operazioni che invece ci portano un guadagno l'importante è che questa differenza sia la maggior parte delle volte inattivo quindi che il nostro saldo il nostro bilancio sia chiaramente inattivo proprio perché dobbiamo considerare questo tipo di attività un vero e proprio business vi dicevo allora il concetto fondamentale noi andiamo a vendere delle opzioni e ci scopriamo comprando altre opzioni quindi il concetto è che abbiamo dei livelli di prezzo più il mercato si allontana da questi livelli di prezzo più noi possiamo avere un profitto fino a un certo punto cioè fino al massimo premio che incassiamo più il mercato si avvicina ai livelli di prezzo che abbiamo scelto vendendo certi strike invece che altri più possiamo maturare una perdita vi voglio far vedere questa operazione perché dal punto di vista didattico appunto può insegnare qualcosa allora questa è un'operazione di appunto portafogli opzioni del 10 settembre fatta su IVM cioè un ETF legato all'indice Russell della borsa statunitese quando vi dicevo che si tende a seguire il trend in atto ma farlo a distanza vuol dire proprio questo vedete con il titolo a 170 l'operazione segnalata all'interno del servizio portafogli opzioni prevedeva la vendita di put 154 e l'acquisto di altri 144 chiaramente si ingassava un premio un credito netto e quest'operazione nell'arco di 67 giorni poteva rendere circa un 4,4% sul capitale messo a margine nel caso IVM avessi proseguito in maniera laterale fosse salito fosse sceso piano piano e questi sarebbero stati gli scenari che avrebbero reso profittibole quest'operazione l'unico scenario in grado di causare una perdita a quest'operazione qual era quella di un crollo di VM cosa è successo nelle settimane anzi nei giorni nelle settimane successive boom il VM è rollato se è realizzata l'unico scenario che ci dà una perdita quindi in questo caso sono scattate le protezioni vuol dire qui abbiamo perso però attenzione cosa ci permettono le opzioni che altri strumenti magari con altri strumenti sarebbe molto più difficile poterlo fare ci permettono di aggiustare le operazioni che ci stanno andando conto quindi non solo partiamo in partenza diciamo in partenza abbiamo l'80% di probabilità di realizzare i profitti ma abbiamo anche sempre grazie alle opzioni la possibilità di correggere in corsa l'operazione messa a mercato per cercare almeno di limitare i danni è proprio quello che è successo perché in data metto che ora prendo gli appunti ecco qua in data 5 ottobre quindi torniamo indietro 5 ottobre eravamo qui 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 ho inserito una nuova operazione sempre segnalata all'interno di portafoglio opzioni e cosa ho fatto visto che il titolo aveva rotto le medie che io considero come possibile supporto all'avanzata dei prezzi allora questo e visto che c'era a rischio appunto lo strano venduto 154 cosa ho fatto sono andato a impassare premi a vendere col a 175 coprendomi con le 185 quindi il 25 ottobre aveva mercato le pute qui che stavano soffrendo perché il mercato da 170 era sceso a 162 50 e io ero posizionato a 154 però ho aperto una nuova operazione sempre sulla stessa sottostante andando a incassare premi in alto lassù in alto a un livello che vedete sopra i reciti massimi qual è il senso di questa correzione beh se proprio devo andare male qua sotto che vi becco lo stop io comunque ho uno stop limitato e sempre proporzionale al massimo profitto dell'operazione ma almeno ho poi il massimo profitto qua sopra perché chiaramente il titolo se puoi iniziare giù e continuo a venire giù queste opzioni scadranno auto demone scadranno senza valore quindi potrò ottenere il profitto da questa operazione la vendita di 175 call e l'acquisto di 185 copertura c'è la possibilità di realizzare un rendimento molto interessante perché perché normalmente il broker quando vai a mettere a mercato un'operazione di segno posto con la stessa distanza delle gambe come in questo caso non ti chiede un ulteriore margine quindi già con il margine impegnato qui sotto vuol dire che questa operazione per mettere a mercato mi è costata zero e quindi chiaramente la resa sul capitale tende a essere infinita perché non ho dovuto mettere altro capitale per mettere a mercato il titolo dal 5 ottobre ha continuato a venire giù vedete quindi ha fatto scattare le protezioni di questo di questo bull put e qua in alto diciamo al momento siamo in guadagno le call vendute a 45 dollari a contratto attualmente valgono circa 15 dollari quindi hanno perso circa il 70% del loro valore è un'operazione che scade il 21 dicembre vediamo chiaramente nel proseguo cosa farà è interessante proprio dal punto di vista didattico questo esempio perché grazie alle opzioni anche quando il mercato prende l'unica direzione che può darci lavorando in questo modo una perdita c'è comunque la possibilità di intervenire e magari quella perdita ridurla rispetto al previsto vediamo un esempio un'altra operazione tanto per farvi capire come funziona il metodo ecco questa è anche questo un esempio molto molto recente su euro vedete che su euro attualmente la mia posizione è questa ho venduto delle call a 1,20 e mi sono coperto acquistando altre call a 1,25 quindi vedete che euro dopo una discesa diciamo abbastanza forte a maggio giugno sta vivendo un periodo di lateralità e io ho diversi amici che fanno forex e fanno forex in maniera direzionale chiaramente perché non si può fare in altro modo mi stanno dicendo che su euro dollaro stanno soffrendo adesso non so se qualcuno di voi sta operando appunto su questo cambio ma attualmente visto che il trading range comunque è abbastanza ristretto non è non è facile riuscire a beccare questi movimenti io col mio metodo li pongo qua su sono a 1,20 attualmente il titolo è 1,16 significa che se da qui appunto alla scadenza che il 7 dicembre euro dovesse proseguire in questa fase laterale dovesse andare a testare questi movimenti o dovesse anche salire un po' fino a questa solida di 1,19 io comunque ho la possibilità di portare a casa il massimo profitto con queste opzioni col vendute 1,20 in questo caso un 7,5% di rendimento sul capitale impiegato a margine un'altra operazione recente sullo yen vedete che appunto ci sono sottostanti diversi che fanno parte del metodo fanno parte di portofogli opzioni in questo caso parliamo della moneta giapponese visto comunque che il trend è un trend del sistema mi sono posto qua sopra ho venduto col a 94,5% ho comprato col a un livello più alto come protezione anche qui vedete che se da qui a dicembre anzi questa è un'operazione che va a scadere il 4 gennaio quindi andiamo già nell'anno nuovo yen dovesse continuare questo tipo di movimento è molto difficile che venga a darmi fastidio qua in alto e quindi questo premio molto probabilmente andrà a finire che si trasformerà in aperta per chi ha acquistato queste opzioni e in un profitto per me che le ho vendute e quindi in questo caso il rendimento possibile è il 5,7% sul capitale l'ultimo esempio che ho preparato però non ho ah ecco vi faccio vedere il grafico allora apriamo il grafico e guarda il petrolio perché in questo caso è interessante perché sono andato a lavorare invece che accompagnare il trend sono andato a lavorare blandamente contro trend e vi faccio vedere come e perché allora un attimo che allardiamo questo grafico allora mettiamo qui 84 perché è una delle varianti possibili con il metodo teta trend quindi ma la maggior parte delle volte andiamo a accompagnare da distanza il trend però ci possono essere delle situazioni come appunto si è presentato la situazione si è presentata sul petrolio e questa operazione è stata fatta il 26 settembre quindi andiamo al 26 settembre che eravamo qui ok ecco io qui quindi mi sono anche cercato un po' di titolo che mi è venuto contro io il 26 settembre considerando comunque che il petrolio era arrivato su dei massi di periodo e si era comunque allontanato dalle medie cosa ho fatto? sempre all'interno di servizio portafoglio opzione ho deciso di andare a vendere queste call 83 scadenza 14 dicembre comprendomi con call 90 in questo caso ho portato a casa un premio di circa 300 dollari per contratto venduto con la possibilità di realizzare come rendimento un 8,5% in 79 giorni di durata massima dell'operazione questa operazione vedete che è appunto blancamente contro trend appunto ho venduto call poi nato all'inizio il titolo ha continuato vedete a venirmi contro vedete perché chiaramente è salito da 71 arrivato a 76 questi sono i vantaggi della non direzionalità io comunque qua su è chiaro che in questi giorni l'opzione si è un po' gonfiata perché il titolo è venuto contro però vedete che a forza di da essere allontanato talmente tanto dalle medie che poi piano piano ha avuto un periodo di ritracciamento ok ed è rientrato sui valori praticamente di inizio di inizio operazione e attualmente però queste opzioni di call stanno già maturando un profitto perché proprio per il discorso del tempo a favore visto che le avevo vendute comunque in un momento dove il titolo stava sparando la volatilità era aumentata questo ritracciamento e questo assestamento ha fatto diminuire la volatilità allontanato il titolo dallo stravenduto nel frattempo un po' di tempo è passato e quindi ecco che già con questo piccolo movimento che prima era a favore poi invece è diventato a favore iniziano queste call a maturare il loro profitto adesso chiaramente non so come andrà a finire teniamolo teniamolo sott'occhio ma so che ogni giorno che passa è il traguardo del pieno profitto di questa operazione che si avvicina si avvicina di un passo quindi di poco ma lo fa tutti i giorni questa è una cosa importante pensate il vantaggio di poter avere in portafoglio degli investimenti e delle operazioni che tutti i giorni a parità chiaramente di condizioni vi staccano una piccola cedola per ogni investimento la staccano e va a finire sul nuovo punto proprio perché il mio criterio quello che desidero trasmettere anche a chi decide di utilizzare questo metodo è di assolutamente come vi dicevo prima differenziare il più possibile creare un giardinetto titoli all'interno di questo giardinetto prendersi poco rischio in ogni posizione per quello che appunto anche in giornate come per di mercoledì magari si riesce a portare a casa un profitto alla fine del portafoglio pubblico perché magari prendi lo stop sui WM ma sui WM hai rischiato poco del tuo capitale e nel frattempo su tante altre operazioni invece hai lo stacco di quella cesolina giornaliera derivante appunto dal tempo che sta passando quindi questa è la mia piattaforma operativa e questo è quello che vedete attualmente il profitto che sta matando quindi tutti questi investimenti attualmente al mercato è la mia piattaforma reale vedete che su ogni operazione mi prendo poco rischio ho un profitto comunque limitato perché equivale ovviamente a premi interessati non di più però tutti questi questi premi queste cedoline giornaliere alla fine comunque vanno a costituire in questo caso attualmente un 16.000 16.000 euro che possono rendere la cosa interessante allora vediamo se ho ancora qualche slide sì giusto visto che parliamo di numeri la performance aggiornata alla fine di settembre del portafoglio Teta Trading Invest come dico sempre il 2015 nel libro questo è quello che è successo dopo quindi sono continuati i rendimenti positivi anche rispetto a uno standard in pur che comunque nello stesso time frame ha fatto un rispettabilissimo un ottimo più 58 e 87 per cento drawdown al 14 e 67 per cento un pochino superiore rispetto allo standard in pur che ha fatto 10,10 per cento ma c'è da dire che però questo drawdown maggiore 14,67 contro 10 e 10 per cento è comunque stato giustificato dalla resa che praticamente è stata quasi quasi del doppio quindi 58 87 contro 108 e 7 per cento bene siamo quasi in chiusura e altro materiale per avere altre informazioni sul metodo avete un sito investireconsuccesso.com trovate il blog ogni settimana video articoli approfondimenti appunto sul sul metodo quindi vi consiglio iscrivervi appunto per ricevere gratuitamente sia questi approfondimenti che questi book sugli errori da non commettere mai quando c'è il mercato poi c'è il libro che trovate sul sito di Traderscap appunto investire con successo ci sono due book collegati al libro che potete scaricare gratuitamente tramite un link inserito all'interno c'è chiaramente il servizio portafoglio opzioni di cui appunto oggi abbiamo parlato e come diceva Maurizio invece venerdì questo venerdì 19 ottobre prima edizione corso Teta Trading Live che è un corso diverso da tutti gli altri perché lo facciamo come diceva Maurizio durante i mercati aperti il terzo venerdì del mese giorno di scadenza delle azioni sarà una mattinata di ripasso del metodo con tutti i criteri le regole e gli accorgimenti che dobbiamo dobbiamo avere per poterlo applicare al meglio sui mercati ma dopo al pomeriggio apriamo una piattaforma in reale con i miei conti andiamo a selezionare le migliori opportunità Teta Trading Invest e le mettiamo a mercato perché è un corso assolutamente assolutamente pratico per chi si iscrive per gli ultimi post sono comunque compresi dei bonus c'è un videocorso di sei ore sulle opzioni un altro ebook migliori tuoi rendimenti e più oltre al brand e alle slide tre webinar di follow up per seguire le operazioni che siamo andati a trovare durante questa giornata da passato insieme per seguire come si sono sviluppate magari trovare nel contempo altre operazioni da mettere a mercato appunto in questi tre webinar di follow up che ci saranno tenuti appunto successivamente al corso bene grazie per l'attenzione do di nuovo la parola a Maurizio se c'è qualche domanda ben volentieri io sono qui sì sì poi ti ripasserò di nuovo la linea per le domande vi ricordo di chiamare a mandare un sms un whatsapp scrivendo il vostro nome più un ok a 320 8756444 per la vostra promozione personalizzata vi ricordo le due offerte speciali sul prodotto portafoglio opzioni presentato da traders magazine italia sul sito della traders cap su traderscap.it due occasioni rinunciabili per poter acquisire a prezzo scontatissimo il servizio portafoglio opzioni l'ulteriore occasione per iscriversi a portafoglio opzioni live quindi la giornata formativa con Alberto Camuncoli per il giorno 19 ottobre a Reggio Emilia e l'occasione imperdibile di avere la promozione personalizzata e tutti questi servizi ora Alberto devo farti qualche domanda devo porti qualche domanda dunque cominciamo con con il chiarire quante qual è il percent profitable del tuo sistema cioè quante operazioni su 100 vanno a buon fine perché credo che questa sia la prima domanda perché poi dobbiamo centrare l'attenzione sugli stop e certo sarebbe poco comprensibile se prima non dici questo dato prego dipende chiaramente dal periodo e dalle varie turbolenze di mercato comunque diciamo che un dato medio di questi ultimi anni è l'85% ok perfetto quindi l'85% delle volte nell'equity line che abbiamo visto scorrere che è presente anche sul sito di traders cap pubblicata vicino al servizio portafogli opzioni 85 volte su 100 questo sistema ha successo ora alla luce di questo ok perché in finanza non esistono pasti gratis il rapporto fra profit e loss unitario può non essere uno a uno dico bene Alberto sì sì e allora io nel considerare le perdite io vado a ipotizzare sempre il peggior scenario possibile cioè visto che noi andiamo a avere due gambe a mercato abbiamo una gamba short e una gamba long quando scatta lo stop sulla gamba short la gamba long spesso e volentieri è in profitto perché significa che quell'opzione che ho acquistato a copertura posso venderla a un prezzo maggiore rispetto a quando l'ho acquistata perché perché il mercato si è diretto in quella direzione quindi ha dato valore così come ha gonfiato il premio dell'opzione venduta seppur in misura minore ha fatto aumentare il valore dell'opzione comprata ecco io questo non lo considero io dico io do per perso tutto quello che è l'acquisto dell'opzione a copertura quindi non lo considero sulla gamba short io ho un rapporto profit loss di 1 a 2 cioè se incasso 500 posso perdere 1000 se il titolo mi viene contro ok quindi 1 a 2 poi dopo il più delle volte quello succede che questo 1 a 2 viene mitigato dal guadagno che ho vendendo la gamba acquistata a protezione ma quello però siccome non è meccanizzabile non è non possiamo sapere quando scatterà lo stop ovviamente magari non possiamo sapere non possiamo sapere quanti giorni manca la scadenza come sarà la volatilità e che tipo di valore avrà la gamba acquistata allora visto che io comunque volevo creare un metodo assolutamente applicabile replicabile con regole certe fisse ho fatto in modo di rendere l'aspettativa positiva anche nel caso comunque l'opzione acquistata valesse zero ma spesso e volentieri non è così e quindi il valore la plusvalenza realizzata sull'opzione acquistata al momento della sua liquidazione mi va a mitigare la perdita che ho sulla gamma venduta è chiaro che non è che un'operazione così si trasformi in guadagno comunque la perdita c'è però il più delle volte non è con questa percentuale ma anche se fosse con questa percentuale il sistema comunque è aspettativa positiva spero di aver risposto in maniera ampia ok perfetto allora per quello che riguarda il broker scordatevi i broker italiani per favore una volta per tutte sono stufo di questa domanda va bene scordatevi i broker italiani per fare ma io non ho riuscito a capire perché abbiate pazienza scusate caro pubblico io vi voglio un mondo di bene voglio un mondo di bene a tutti i nostri lettori voglio un mondo di bene a tutti i nostri sostenitori va bene noi siamo qui perché ci siete voi e di questo vi siamo grati però per favore per fare le cose seriamente scordatevi i broker italiani lo dico pubblicamente va bene sono tutti i nostri clienti i broker italiani e dico pubblicamente per fare portafogli opzioni scordateveli è chiaro poi scusa ma intervento su questo argomento perché è una domanda che fanno spessissimo anche a me ma il fatto di avere chiaramente in maniera legale dichiarata un conto anche all'estero ma vi fa così schifo cioè per me è un plus cioè per me è una cosa che voglio dire nell'ottica appunto di una diversificazione caspita cioè voglio dire è un'arma in più che noi abbiamo chiaramente lo dobbiamo fare in maniera dichiarandolo cioè è tranquillamente possibile farlo ma qual è il vantaggio enorme che possiamo ricavarli che siamo differenziati rispetto al rischio paese eppure vedo che la gente non riesce a capire questa cosa ma mistero no no ecco poi mi chiedono fuori ESMA no no ma non è un problema di ESMA no assolutamente anzi è un broker quello che ci vuole per tradare opportunamente le opzioni è un broker che assolutamente rispetta le normative ESMA anche perché è uno dei meglio regolamentati al mondo ok per intenderci noi usiamo Interactive Broker perché è quello che ci dà le migliori garanzie aspettative va bene per quello che riguarda il trading e le opzioni ma questo da sempre va bene non è che è dall'altro ieri va bene è un nome che noi ci sentiamo di consigliare Interactive Broker se non ci dà una lira che è una lira è l'unico broker che non è cliente di Traders Magazine Italia perché gli altri sono clienti e noi siamo clienti suoi io poi ne ho anche un altro ma siccome è molto più complicato da aprire il conto non ve lo dico nemmeno però chi mi conosce sa che sono cliente loro da credo da 18 anni da 17 18 anni è un broker americano è uno dei leader negli Stati Uniti un po' meno diffuso in Europa e anche su quello si possono fare le opzioni molto molto bene ok però non ve lo cito oggi tra l'altro non hanno nessuna voglia di aprire conti in Europa perché dicono che siamo matti hanno ragione con le nostre normative le ESMA le ASMA che fanno venire l'ASMA ok quindi basta con queste cose qui loro sono in un altro mondo in un altro pianeta invece Interactive Brokers è un broker che accetta volentieri i clienti italiani anche una linea di assistenza che se saputa prendere nell'orario giusto è anche italiana abbiamo chiarito quindi gli stop loss e la percentuale di successo delle operazioni che è l'elemento fondamentale per capire questo mondo delle opzioni c'è una domanda specifica sul tuo servizio presumo quindi da un abbonato al tuo servizio la comunicazione dei giorni sul portafoglio opzioni è riferita ai giorni di calendario o ai giorni di borsa immagina i giorni di calendario giusto? sì sì i giorni di calendario sono dati che ricavo dal broker che vi dice appunto quanti giorni complessivamente di calendario mancano la scadenza quindi considerano anche i sabati la domenica e le domeniche senti c'è una domanda specifica noi in genere non facciamo domande personalizzate sulla singola posizione però mi pare interessante di voler rispondere l'operazione sul CL a 76 un ascoltatore ci dice ha comprato una bull put 60 60 55 qual è la tua opinione? vuoi che ti fa sul video oppure dunque cioè lui ha venduto ha venduto un bull put veramente non lo capito l'ha comprato un bull put 60 55 allora dunque se allora credo l'abbia comprato se ha comprato non va bene cioè qualcosa che non esatto sì probabilmente avrà venduto io credo avrà venduto una bull put 60 55 ok allora diciamo che sul petrolio adesso che comunque è stornato da quei massimi sto valutando anche io eventualmente noi con portafogli opzioni abbiamo delle put vendute che ormai stanno scadendo senza valore e dovrebbero scadere se non vado errato fra una quarantina di giorni e quindi quell'operazione dovrebbe dare dovrebbe darci appunto il massimo profitto dal lato diciamo basso quindi dal lato delle put in alto avete visto abbiamo questa operazione a strike 83 e io sto valutando adesso che appunto quell'eccesso diciamo di rialzo è rientrato il titolo comunque è sopra due delle tre medie che utilizzo quindi potrebbe essere nei prossimi giorni adesso domani chiaramente ci sono i dati quindi un'altra regola del metodo è di non agire mai prima dei dati ma eventualmente vedere come si muove il mercato e andare a prendere posizione dopo però magari questo fine settimana ci può essere non so giovedì venerdì così vediamo cosa cosa fa il petrolio dopo i dati domani potrebbe essere l'opportunità di andare a inserire una nuova operazione in questo caso chiaramente dal punto di vista delle put magari andando a scegliere anche in questo caso la scadenza di gennaio così da disegnare una zona di profitto dove là in alto abbiamo lo strike 83 e in basso magari abbiamo appunto strike 60 poi veniamo le opzioni che ci sono ma se diciamo il petrolio nei prossimi due o tre mesi si muove all'interno in maniera laterale o senza particolare trend all'interno di questa ampia fascia di profitto possiamo realizzare appunto sia un profitto sia dalle call che dalle put con in più il vantaggio di ottenere comunque una protezione come abbiamo visto con il vm perché se poi il petrolio riparte a rialza e magari va a avvicinarsi di nuovo tento un nuovo assalto allo strike 83 a questo punto noi abbiamo comunque in basso le put che ci vengono e ci danno profitto quindi può essere un'operazione intelligente da fare però aspetto domani che ci sono i dati come al solito a mercoledì alle 16.30 sulle scorte di petrolio alcuni ascoltatori sì l'ascoltatore di prima ci conferma che ha venduto la bull put come avevamo supposto ecco alcuni ascoltatori dicono effettivamente le norme europee stanno soffocando il mercato fino a farlo morire e questa è un'osservazione che rende giustizia alle opinioni che hanno gli americani quando gli raccontiamo che abbiamo l'esma che abbiamo queste cose qui non perché loro non abbiano controlli voglio dire quando ne pescano uno poi si scordano la chiave come si dice in gergo da noi invece siamo pieni di norme pieni di carta ma chissà perché nelle galere al massimo ci va qualche spacciatore certamente non ci va mai qualcuno che truffa per la finanza quindi è proprio sbagliato il metodo è sbagliato il sistema per questo noi vi diciamo staccatevi dalla mentalità del sostituto d'imposta dal terrore di trovare il commercialista giusto staccatevi è vero che io parlo io nel 1992 mi sono talmente rosicato il fegato dell'Italia che ho deciso di espatriare ho deciso di andare all'estero è vero che io parlo da una diversa posizione non vi dico andate tutti all'estero ma non abbiate paura di aprire un conto estero non abbiate paura di scrivere una righina nel quadro VA e di dichiarare fedelmente i vostri redditi pagando il vostro 26% allo Stato italiano su ciò che è giusto ovvero sulla differenza fra profitti e perdite perché questo è il vero concetto con cui si devono pagare le imposte la differenza fra profitti e perdite il regime amministrato è una truffa inventata dallo Stato italiano è una truffa perpetrata ogni giorno dall'agenzia delle entrate quindi non fatevi truffare uscite da questo meccanismo uscite da questa mentalità sto per dire una parolaccia nel senso che scusami Alberto c'è una ragione per cui dagli Stati Uniti alcuni broker rifiutano di aprire i conti in Europa perché non hanno voglia di avere a che fare con le norme europee questo signori la dice lunga siccome c'è Interactive Brokers che invece li apre volentieri ha la sede anche a Londra ha il servizio di assistenza proprio vicino a casa mia qui a Zugo sta proprio a due passi e sono bravi sono professionisti sono professionali garantiscono un servizio eccellente hanno una delle migliori piattaforme hanno un eseguito perfetto ma che cosa andiamo in cerca c'è Alberto Camuncoli che le operazioni ne prende giuste l'85% con un servizio che viene reso ogni giorno va bene con due segnali a settimana dico bene Alberto mediamente sì mediamente sì mediamente sì ok con un portafoglio che è costituito da quante operazioni mediamente 8 7 8 10 beh sai quel lì poi dipende chiaramente dal conto che uno ha perché ogni operazione che si va a mettere a mercato richiede un certo margine e il margine dipende anche dalla distanza fra le gambe fra gamba acquistata e gamba venduta e poi dipende anche da che tipo di sottostante perché per esempio i future le materie prime che utilizzo molto richiedono meno margine rispetto all'azionario e Maurizio scusa mi rilascio un attimo farò una precisazione rispetto all'ESMA e visto che sono arrivate anche tante domande via mail anche per quanto riguarda il portafoglio azioni allora attenzione è vero che alcuni sottostanti alcuni etf adesso non è più possibile tradarli ma attenzione e queste limitazioni ci sono per direttamente il mercato cioè per andare acquistare o vendere direttamente l'ETF per esempio TLT per esempio GLD sulle opzioni invece tutto come prima non è cambiato niente quindi adesso ci troviamo nelle condizioni dove alcuni etf non possono essere diciamo tradati direttamente cioè se io voglio vendere GLD con appunto le nuove normative proprio perché manca ancora il kit eccetera eccetera non posso farlo ma posso tranquillamente come facevo prima andare a lavorare sulle opzioni di GLD quindi questo è un ulteriore vantaggio perché lavorando con le opzioni non è cambiato niente abbiamo ancora a disposizione tutti gli stessi mercati gli stessi sottostanti rispetto a quando non c'erano ancora queste nuove normative questa è una percezione che volevo fare perché molte persone sono trovate spiazzate vedendo magari che non possono operare sul mercato ma magari non sono state attenti non si rendono conto che invece con le opzioni non è cambiato niente quindi è possibile assolutamente come l'era prima andare ad applicare il metodo su quei mercati perché sulle opzioni non c'è nessun tipo di limitazione senti il dunque quante operazioni sono aperte quindi hai risposto da quanti titoli è composto vabbè più o meno è la stessa domanda quante operazioni sono aperte e vogliamo parlare del capitale che è necessario ipoteticamente per portafogli opzioni sì io consiglio diciamo 15-20 mila euro per avere una buona differenziazione si può partire anche con meno è chiaro che si avranno meno operazioni a mercato e si venderanno meno contratti tra i bonus previsti per chi appunto si abbona oltre a alcuni webinar e all'ebook di spiegazioni c'è anche proprio un documento che permette di calcolare esattamente a seconda del capitale disponibile sul conto il numero di contratti da vendere a mercato perché chiaramente il numero di contratti determina il rischio complessivo di operazione quindi è un calcolo che sono formule matematiche appunto anche queste previste anche queste incluse nel libro ma ho fatto un estratto proprio per permettere anche a chi magari non ha ancora letto il libro non l'ha sotto mano di riuscire a conteggiare esattamente i contratti da vendere in relazione al capitale di cui dispone sì su questi etf c'è un'osservazione mi sembra interessante l'unico effetto sulle opzioni è che non si viene più assegnati con gli etf ma debitati in cash che mi sembra un'osservazione interessante dico bene Alberto sì sì esatto poi noi e comunque vogliamo di caso evitare di essere assegnati e proprio per questo abbiamo una protezione specifica da far valere specialmente il giorno di scadenza che proprio va a evitare l'assegnazione del sottostante che sia poi con un settlement cash oppure con appunto il sottostante perché non vogliamo appunto sorprese alla riapertura dei mercati ok perfetto e avvicinandoci alla fine dell'anno tenderai a gestire le operazioni solo le operazioni aperte oppure opererai come sempre opererai come sempre immagino vero? come sempre come sempre i mercati comunque sono aperti continuano a offrire opportunità quindi quando vedo un'opportunità volentieri ci scrivo un articolo sopra se il fattore tempo influisce soprattutto nell'ultimo mese perché non ridurre la scadenza che normalmente viene applicata immagino perché è quello che insegnano tutti chi vende opzioni insegna a vendere opzioni fronte mese perché gli ultimi 30 giorni le opzioni si degradano e quindi riuscite a portare a casa un bel profitto in poco tempo in realtà questo metodo chi lo insegna spesso e volentieri l'ha solamente letto sui libri ma non ha mai sperimentato veramente sui mercati perché non funziona non funziona vendere fronte mese perché dobbiamo stare troppo vicini al mercato non riusciamo a avere quella distanza necessaria in grado di mettere le proprietà dalla nostra parte io preferisco vendere a minimo 45 massimo 120 giorni perché così facendo mi allontano il più possibile dal mercato riesco a fronteggiare anche i movimenti avversi e metto quindi le proprietà dalla mia parte e facendo così vado anche a soffrire meno giorno per giorno per quanto riguarda l'evolversi dell'operazione cioè se un giorno il mio sottostante se io vendo a 30 giorni e domani il mio sottostante fa meno 2 io nel mio portafoglio lo sento lo sento subito se io vendo a 60 giorni delle putte domani il titolo fa meno 2 non me ne accorgo neanche quindi vado con molto meno stress con molta più serenità e riesco ad aumentare la percentuale di profitto dell'intero portafoglio proprio perché appunto vado a vendere lontano come dico sempre io non combatto mai la battaglia dei mercati in prima fila in trincea dove fischiano le pallottole dove arrivo le cannonate io chiamatemi codardo chiamatemi timoroso ma preferisco stare ben al coperto lontano lontano dai campi di battaglia e guardare col binocchio appunto lo svolgimento di questa battaglia ma avere appunto così non correre molti meno rischi di rimetterci la pelle o almeno il portafoglio sì sì in effetti noi fino al 2000 credo 2011 se ricordo bene 2010 2011 c'era il mio sistema che aveva funzionato molto bene sulle opzioni in passato diciamo che aveva avuto solo un po' di bastonate alla fine del 2008 ma quello insomma credo in tanti a prenderle no e noi eravamo soli ecco in questo momento che vendeva il frontemese il frontemese però in determinate condizioni di iper venduto e iper comprato cioè quindi quando il mercato era particolarmente tirato verso l'alto o verso il basso ah ok quindi non era sempre frontemese esatto e questo sulle determinate condizioni questo sistema così ha un senso così ha un senso Maurizio cioè quando vedo che un mercato magari arriva lì con un trend forte poi dopo in esaurimento può avere senso vendere frontemese io invece parlo proprio di col sistema posso dire che il sistema si è gradualmente deteriorato fino a non funzionare più perché evidentemente le condizioni di volatilità del mercato e anche di imprevedibilità le spike irregolarità diciamo il rumore del mercato ha finito col distruggere questi sistemi quindi oggi sicuramente vendere il frontemese è diventato molto molto rischioso molto molto poco funzionante quindi è perfettamente coerente con le tue ricerche degli ultimi anni che dal 2015 vanno a funzionare un sistema che viceversa non vende il frontemese non cade nella trappola del frontemese ma guarda un orizzonte un po' più lungo dando cioè andando a prendere un po' più di succo dentro le opzioni e comunque dandoti un concetto di tempo a favore un po' più lungo e sicuramente più razionale più coerente con le condizioni di mercato di oggi anche perché attenzione il solito grafico che si fa sempre vedere del time decay dove negli ultimi 30 giorni c'è proprio un decadimento massimo in realtà bisogna anche sapere che quel grafico è riferito alle opzioni al demone noi invece andiamo a lavorare su opzioni out of the money se voi andate a prendere un grafico di decadimento temporale delle opzioni out of the money vedete che la curva è diversa la curva è molto più graduale ed inizia prima per questo che ha molto più senso andare a vendere a 45 120 giorni poi ad oggi in Italia io sono l'unico appunto che insegna questa metodologia con questa tempistica perché appunto c'è ancora il discorso del frontemese visti i risultati non mi raveglierei appunto se da domani invece questa cosa prendesse piede e venisse insegnata anche da altri formatori perché se hanno una serie di vantaggi veramente veramente notevoli ok perfetto va bene credo che abbiamo risposto a tutte le domande se siccome ne abbiamo avute veramente tante se dovessimo aver mancato delle domande vi prego di farcelo sapere al numero che vedete in sovraimpressione adesso al 320 8756 444 oppure scrivendo semplicemente una email a info chiocciolatraders trattino mag punto it quindi al servizio clienti di traders in magazine in Italia perché sicuramente avrete una risposta vi ricordo anche che per contattare traders magazine Italia dal sito internet potete cliccare sulla piattaforma dei contatti che vi permette di poter mandare un messaggio direttamente che viene ricevuto in email dalla nostra redazione tenete presente che lo sentiamo come un dovere assoluto quello di rispondere a tutti coloro che ci scrivono e che ci contattano vi ricordo di nuovo 320 8756 444 prendete al volo queste opportunità perché non potremo continuare a presentare delle scontistiche ancora per lungo tempo questo servizio sta andando rapidamente ad una platea di abbonati che è in crescita continua e diciamo che raggiunto un determinato budget di abbonati non avremo più la possibilità di poter fare sconti il servizio sta avendo un grande successo abbiamo anche degli ascoltatori e Alberto che ci hanno detto che riescono tranquillamente a seguire il tuo servizio anche con un capitale inferiore e questo mi pare che uno ha parlato di 12.500 questo è diciamo per loro per chi ci ha scritto è un momento didattico importante perché il tuo il tuo sistema viene considerato sicuramente dai nostri ascoltatori fra i migliori presenti sul mercato e la testimonianza degli abbonati che tutti i giorni ci manifestano nel loro parere è una testimonianza chiara di assoluta fedeltà a questo servizio di fedeltà alla grande razionalità che hai saputo mettere all'interno del tuo metodo vi ricordo ancora che il metodo di Alberto Camuncoli è tutto rappresentato in modo assolutamente trasparente nel libro investire con successo che è la vostra bibbia di investitori da tenere sul tavolo facilmente acquistabile sullo shop di Traders Magazine Italia semplicemente cliccando sulla copertina vi venite collegati alla pagina per l'acquisto vi ricordo ancora una volta infine tutti i nostri eventi vi ricordo che il 10 novembre saremo a Torino al Traders Tour ci sarà immagino anche Alberto anche se formalmente non l'ho invitato ma è già invitato adesso in diretta se vuole venire ovviamente sarà a disposizione uno slot per il suo intervento vi ricordo e Maurizio ti ringrazio ma a Torino quel giorno lì non riesco però ci sono a Padova a Padova ci sono a Torino il 24 novembre perfetto esatto perché quei giorni sono già impegnato del Traders Tour vi ricordo che il 18-19 ottobre saremo al Fioli quindi a Verona con Consultic che il 24-25 ottobre al Trading Online Expo in tutti e due giorni avremo degli interventi in sala e in balconata 1 il 25 ottobre vi aspettiamo io ed Alberto per le ultime novità su Portafogli Opzioni per una presentazione in diretta di tutto quello che è avvenuto sul servizio e di tutto quello che andremo a fare presumibilmente nelle prossime settimane sul servizio grazie a tutti i partecipanti grazie ad Alberto Camuncoli per l'apporto di consulenza l'apporto di valore aggiunto che ci dai con le tue lezioni le ascoltiamo sempre volentieri la registrazione di questo webinar verrà distribuita in link a tutti gli iscritti partecipanti al webinar e verrà pubblicata sul canale YouTube di Traders Magazine Italia a disposizione di tutti coloro che considerano la cultura finanziaria un elemento fondamentale della propria cultura personale grazie a tutti quanti grazie al pubblico al grandioso pubblico di Traders Magazine Italia grazie ad Alberto Camuncoli per la relazione e per averci intrattenuto questa sera con la sua lezione di cultura finanziaria grazie a te Maurizio e grazie a tutti gli ascoltatori per l'attenzione non c'è ancora sul sito ma ci sarà un bel evento ve lo dico perché lo potrete annotare in agenda il 23 ottobre proprio la sera prima della Tolexpo ah no scusate ci saranno due eventi la prossima settimana il 22 e il 23 ottobre ci saranno due webinar entrambi alle 18 sia lunedì 22 ci sarà un Traders Webinar e martedì 23 un Investors Webinar il webinar di Traders sarà su un trader che desideriamo presentarvi che ancora non conoscete ma che noi conosciamo già da molti anni e così come è successo con Alberto Camuncoli credo che gusterete i suoi metodi le sue metodologie martedì 23 invece per gli investitori per i consulenti finanziari per i professionisti della finanza presentiamo una piattaforma assolutamente innovativa si chiama Smart Trade permette di fare composizione di portafoglio è particolarmente interessante per gli investitori e consulenti è una novità assoluta che vi presenta Investors Magazine Italia il prossimo appuntamento quindi con i webinar di Traders e Investors è per i giorni 22 e 23 ottobre entrambi alle 18 a presto sul sito di Traders e di Investors per i relativi banner ovviamente riceverete anche gli inviti in email come sempre arrivederci e a risentirci ai prossimi eventi di Traders Magazine Italia grazie ancora a tutti grazie a tutti